Buongiorno a tutti, parliamo di misurazione oggi e qui infatti c'è uno strumento terribile che ci misura i secondi e sicuramente non è partito però, parlo a mio danno. Va bene, allora pensavo di introdurre il tema con qualche considerazione generale anche abbastanza problematica che metta in evidenza luce e ombre di una prospettiva evolutiva dei sistemi di valutazione del merito, delle performance nelle aziende e nelle organizzazioni di diverso tipo. Potremmo cominciare a dire che alla fine parliamo di cose tutt'altro che nuove, ci sono decenni e decenni, decine d'anni di esperienze nelle aziende di tutti i tipi e quindi il rischio che si corre un po' parlando di performance, di merito, di valutazione, di misurazione è quello della ritualità, della stanchezza che in qualche modo... uno stanco rituale potremmo chiederci, evidenze in questo senso non mancano per fare quindi anche un piccolo richiamo alla rivista, non tanto tempo fa abbiamo pubblicato questo articolo di Salone, una survey dove sostanzialmente si rilevava che nelle aziende italiane un po' di tutti i tipi ma anche appartenenti a gruppi internazionali, ma questo si lega anche a fenomeni diffusi su scala più ampia emerge comunque una certa fatica, quindi ormai i sistemi di valutazione del personale a tutti i livelli sono rutinizzati, quasi tutte le aziende li hanno e però non sempre questo incontra soddisfazione, quindi gli stessi uomini e donne del personale non di rado insomma esprimono quando possono parlare un po' fuori dagli schemi diciamo questo senso di insoddisfazione che poi in qualche modo accomuna valutati e valutatori. Ecco non è sempre così naturalmente e quindi già oggi avremo testimonianze positive, interessanti, c'è da dire anche che le innovazioni non è che non ci siano state su questo argomento nel tempo, ci sono state innovazioni di metodo, di tecniche per esempio sul tipo di metriche sempre più sofisticate, tecnologico ovviamente il supporto dei sistemi informativi è molto migliorato, molto aumentato, diventato sofisticato, di metodo che so del tipo della valutazione a 360 gradi, cose così che sembravano anche in un certo periodo interessanti ma insomma tutto sommato nessuna di queste innovazioni ha veramente realizzato un cambiamento di grande rilievo capace di essere veramente persuasivo, quindi in fondo i sistemi sono ancora quelli degli anni 70-80 un po' aggiornati con le tecnologie, insomma qualche infiorettatura, qualche cosa di più sofisticato ma non molto di più. Allora io ho cercato prima di tutto insomma di andare un po' a vedere al di là delle impressioni o anche di survey di tipo così generale, cosa dice la ricerca, con gli studi che hanno affrontato in modo più sistematico con base di dati ampie questo tipo di problematica. Ecco quindi tutto sommato ci sono alcune, le ricerche sono anche molte, io mi sono anche riferito a una sintesi, diciamo che un punto più critico è il nesso, si misura magari la performance degli operatori, alcune volte dando quasi per scontato che questo produca un miglioramento organizzativo nel senso di riguardante le performance aziendali e invece non sempre questo è vero o comunque il nesso non è dimostrato con evidenza. Ecco una ricerca di sintesi abbastanza recente che però ha esaminato un po' tutto quello che è stato elaborato però ci dice qualcosa di più interessante, di più incisivo parlando in questo caso di sistemi di performance management che considerino l'aspetto organizzativo e anche quello riferito agli operatori e alle persone e quindi tutto sommato questo collegamento fra risultato aziendale e valutazione del personale non è che non esista ma lo si riscontra in modo più chiaro in una minoranza di casi nei quali sussistono alcune condizioni abbastanza precise. C'è che il sistema di valutazione sia integrato con gli altri sistemi di gestione del personale e quindi non sia uno strumento che sta da solo ma sia in qualche modo un aspetto di una politica del personale più ampia, che ci sia un allineamento abbastanza curato con obiettivi strategici competitivi di mercato dell'azienda quindi che il personale in qualche modo si valga anche di una forte pressione e informazione di quello che è vitale per l'azienda o per l'unità in cui opera, che comunque ci sia forte attenzione ai comportamenti, pensiamo a tante aziende di servizi che hanno bisogno che il front office sia rispondente, offra qualità e quindi che questo sia molto focalizzato anche in termini di comunicazione e poi c'è un quarto punto che è quello probabilmente più critico dove molte velleità finiscono per cadere, cioè che il sistema nell'azienda complessiva e non solo nella funzione risorse umane sia amministrato con coerenza, autorevolezza, correttezza e che in qualche modo ci sia una garanzia, un impulso coerente da parte dei vertici aziendali, quindi non ci siano incoerente sfasature comportamentali lungo la linea manageriale. Ecco sappiamo che questa probabilmente è la condizione più difficile perché molte volte è un aspetto che viene sottovalutato o trascurato. Sicuramente ci sono alcune problematiche sottostanti queste difficoltà che sono legate probabilmente alla complessità. Ecco diciamo che la fisiologia in qualche modo ci dice che l'aspetto più critico è quello di andare ad incidere sui comportamenti, diciamo trasformando quelle che sono alcune qualità generali, professionali, di abilità e anche di tipo comportamentale, trasformandole in abilità più focalizzate sulle criticità specifiche dell'azienda. Cioè diventa un po' firm specific e non soltanto generico il contributo che viene chiesto al personale. Cioè quindi problema di contestualizzazione rispetto alle condizioni effettive. Quindi questo è un po' il punto dal punto di vista tecnico da alcuni discorsi più generali sulle competenze, sulle professionalità, sui comportamenti a una traduzione in termini più mirati. Ecco sappiamo poi, questo è un altro aspetto, io me ne sono occupato abbastanza, oggi si è diffusa la valutazione delle performance in molti campi anche fuori dal mondo aziendale vero e proprio nel non profit, nella pubblica amministrazione e lì troviamo criticità, quindi ci sarà anche qualche intervento oggi su questo, troviamo delle criticità ulteriori e in generale una maggior difficoltà ancora a ottenere i risultati desiderati proprio perché tendenzialmente sono più difficili, a parte alcuni inerzi che possono esserci ma sono fondamentalmente più difficili i risultati da valutare, interpretare la performance è più complicato e qui occorrerebbe un impegno maggiore ancora nella comunicazione, nell'interazione, nel coordinamento. Ecco alla fine il discorso è comunque quello sia nel pubblico che nel privato più che di intervenire con nessi meccanici tra performance e incentivi diventa più importante creare un clima generale di attenzione a quello che si fa e quindi di impulso a una performance concepita in modo non troppo restrittivo diciamo ma aperta alla riflessione, quindi il beneficio dovrebbe sempre meno nel nesso meccanico premio prestazione ma sempre di più nel creare una condizione nella quale le persone sono invitate a ragionare su quello che si fa e a tenerne conto nel momento in cui devono reagire anche agli imprevisti, alle incertezze, soprattutto all'interazione con l'esterno sullo sfondo ci sono questi due grossi problemi che conosciamo tutti bene, insomma il gaming cioè il fatto che i sistemi hanno comunque un qualcosa di burocratico e quindi alla fine portano l'attenzione su target limitati e questo opre spazio a tutta una serie di comportamenti opportunistici che generalmente si verificano, non so pensiamo intorno al budget, i giochi di budget, quando c'è da chiudere l'anno o insomma con tutta una serie di piccoli opportunismi o in alcuni casi anche più grandi perché possono coinvolgere anche in qualche misura la manipolazione del modo in cui si comunicano i risultati aziendali e da cui possono derivare comportamenti inattesi, inaspettati e risultati indesiderati. L'altro punto è il fatto che c'è un problema che è stato analizzato in termini di trade off tra rumore e distorsione, cerco di spiegarmi un pochino intanto il gaming tendenzialmente comporta distorsione nel senso che si concentra l'attenzione su quello che viene misurato, qui gira sempre questa favoletta secondo cui tutto è misurabile e quello che non si misura non si gestisce, molti esperti portano avanti questo slogan, in realtà la misurazione è problematica perché in generale si misura qualche aspetto della performance e quindi l'aspetto più completo tende a essere trascurato e può dare luogo a opportunismi, soprattutto quando poi sono in gioco incentivi di un certo rilievo. L'altra cosa, ecco accelero un po' su questo, l'altro problema è quello del rumore, cioè il fatto che la performance che viene misurata può essere influenzata da fenomeni estranei all'effettivo impegno e al comportamento di chi viene valutato a livello organizzativo e individuale, quindi semplicemente io minimizzo il rumore se per esempio valutando un'impresa sul valore, scusate minimizzo la distorsione ma sono molto esposto al rumore per esempio se valutassi le perfa in termini di valore di borsa, perché evidentemente dipende da fattori che possono essere fuori dal controllo. Adesso nella pubblica amministrazione qualcuno ha proposto valutiamo i dirigenti in base alla crescita del PIL nazionale, così sono responsabilizzati sull'andamento del paese e non sulle attività che svolgono loro. Questo minimizza le possibilità di distorsione ma espone a un rumore molto forte. Se vado sul profitto è un po' più manipolabile, però è sempre un dato abbastanza oggettivo. Se scendo a livello di unità organizzative fino ai profitti di unità o di stabilimento, addirittura semplicemente ai costi, questo è un dato invece probabilmente sul quale non c'è rumore perché è più vicino al comportamento che so dei dirigenti responsabili, ma c'è un rischio di distorsione perché i dati possono essere molto più facilmente oggetto di giochi, di gaming, di manipolazione. Spero sia chiaro. Quindi siamo in mezzo a queste due cose e alla fine c'è da fare un po' un trade off o una cosa o l'altra oppure mi assesto un po'. E quindi qui tutte le discussioni che si fanno possono essere spesso valutate su questo punto. Quindi la teoria alla fine ci dice tutta una serie di cose che potrebbero anche rendere abbastanza chiaro il discorso. Quindi occorre l'integrazione, occorre chiaro un ambiente favorevole, occorre il diretto impegno dei vertici, poi le tecniche servono ovviamente senza un sistema informativo adeguato, poi la gestione dei dati è difficile, tutto questo aiuta ma non è risolutivo perché i fattori chiave sono quelli che ho detto. E quindi oggi non si può più comunque avere un approccio di 30 anni fa, essere troppo ingenui, naif, pensare così che incentivare la performance, valutarla in modo automatico, generi sviluppo, generi sia risposti alle attese delle persone che a quelle delle aziende, ma bisogna avere consapevolezza dei rischi e delle possibili controindicazioni. Ecco, c'è da dire, il nostro convegno però ha un doppio titolo, c'è il discorso del merito ma c'è anche quello dell'equità o se volete in qualche misura dell'etica. E questo è un punto importante che rende il quadro un po' meno chiaro, un po' meno netto perché comunque la valutazione di ciò che attiene al lavoro, perché poi di questo si tratta, tocca alla fine lo si voglia o no, per quanto noi possiamo dire non si valuta la persona, si valuta la prestazione, si valuta il risultato, per quanto lo diciamo comunque la sfera personale viene toccata e quindi questo dovrebbe in qualche modo responsabilizzare tutti perché si va ad agire in uno spazio diciamo molto molto delicato e quindi quando si ragiona anche sulla professionalità dei dirigenti dei quadri intermedi l'aspetto valutativo non è soltanto un'abilità richiesta, una competenza ma ha un risvolto sicuramente di tipo etico, di tipo di contributo a gestire un discorso di equità e quindi c'è la necessità soprattutto di tenere in conto quello che è il sentire diffuso del personale e anche un po' di quella che possiamo un po' definire come la pancia dell'organizzazione, quindi se andiamo probabilmente a sentire la base molte volte i sistemi di valutazione non vengono percepiti, insomma a torto ragione non sempre vengono percepiti come brillantemente gestiti e quindi qui su questo piano si gioca un aspetto importante della politica dell'organizzazione, cioè il fatto che ci sia un clima favorevole alla performance lo deve in qualche modo riconoscere la gente, non è un fatto che viene garantito dalle tecniche, dai sistemi che si adottano, quindi bisogna cimentarsi con un rapporto diciamo con l'opinione delle persone che poi possono avere anche loro tutte le proprie possibili distorsioni ma comunque va considerato. Ecco il campo della valutazione, qui sto mangiandomi tutto il tempo ma cerco di arrivare a conclusione, insomma è strutturalmente esposto a una pluralità di logiche e divisioni, insomma ci dobbiamo confrontare comunque con diverse culture che si sedimentano in qualunque azienda e che col tempo stanno divenendo più chiare. C'è una logica di regole, di razionalità, possiamo dire di ordine organizzativo, che è un po' più tradizionale ma ha il suo senso, da ordine e anche qui c'è anche un aspetto di equità, c'è un aspetto, una cultura di relazione tra persone, quindi dove c'è il problema di rispondere alle attese collettive individuali e c'è un problema sempre più attuale di logica economica del mercato degli scambi, quindi gli economisti ci suggeriscono questo, quindi il capitale umano da valorizzare anche rispetto ad alternative offerte dal mercato e quindi c'è generalmente un intreccio tra questi tre modi di pensare che sono anche esigenze, relazioni tra persone, ordine organizzativo, mercato e scambio, quindi tutta la gestione del mercato del lavoro interno e nell'interfaccia col mercato professionale esterno. Per chiudere, dato che ho finito il tempo, un piccolo stimolo su un altro piano, consideriamo, abbiamo visto, in stima sintesi, cosa ci dice la letteratura scientifica, cosa ci dicono le ricerche, qualcosa ci può dire anche, se vogliamo, ce lo può dire anche la letteratura umanistica, le narrazioni, insomma, non tecniche, non scientifiche, nella rivista tengo questa rubrica su cinema e romanzi che ogni tanto tocca anche questo tema. Da questo recupero solo due spunti, così per una riflessione più ampia, di qualche tempo fa c'è questo libro Repallido, che è già il titolo evocativo, di Foster Vallas, che purtroppo ha avuto una fine tragica, un libro di complessa lettura, però ecco, tratta di temi di un'organizzazione pubblica, l'Agenzia delle Entrate Americane, e ci troviamo, insomma, abbiamo parlato prima del ruolo dei vertici, ecco, per lui Rep è pallido e soprattutto è esposto al fatto che le persone ne sono consapevoli, quindi c'è una debolezza dei grandi vertici organizzativi e la contrapposizione fra il grande manager eroico e invece lo stile molto più partecipativo, porta aperta, ma tutti e due sono percepiti come deboli e alla fine quello che emerge è una figura un po' scura di manager intermedio che riconosce la realtà molto più realista, dice io sono in un'organizzazione reale che non è ideale e però questo prende sul serio le persone e quindi riconosce anche i sistemi premianti inevitabilmente hanno una componente burocratica che non va demonizzata, va in qualche modo accettata, ma alla fine questo dirigente prende sul serio le persone, le considera come tali e cerca di far funzionare le cose diciamo nel modo migliore possibile, diciamo non prendendo per oro colato tutto quello che viene proposto dall'alto, quindi stare un po' in un terreno intermedio un po' pacco ma molto realistico e con l'obiettivo insomma di salvaguardare rapporti personali. La troverete in questo numero che sta uscendo che speriamo che è arrivato, quindi c'è questo romanzo avveniristico che riprende un po' il nostro caro Orwell, il cerchio, quindi organizzazione proiettata nel futuro dove c'è questa giovane neossunta entusiasta di sistemi molto avanzati, dei feedback con la tecnologia più avanzata, quindi il cliente ti potrà valutare su una scala da 1 a 100, questa opera proprio nel servizio ai clienti per via telematica e la valutazione sarà sempre, tu saprai in ogni momento come stai andando e potrai confrontare la tua persona di oggi con quella della settimana, del mese, dell'anno, con i sistemi più evoluti possibili. E lei che aveva lavorato in un'azienda più arretrata dice prima ero all'oscuro di tutto, dice addirittura fino alle valutazioni trimestrali, quindi non era poi neanche tanto arretrata, neanche annuali. Questa entusiasta però insomma dal libro alla fine, adesso non vi posso anticipare il finale, non è che esce, quindi la sua ingenuità rimane un po' vittima insomma alla fine del suo approccio, del suo approccio naif e di una scala di misurazione 1 a 100 senza sfumature e che in qualche modo però lavora su una sola dimensione, è una sola dimensione mentre la realtà del lavoro sempre più è pluridimensionale, plurimi sono le culture, i valori, le logiche e quindi questo è il mondo reale nel quale dobbiamo confrontarci. Quindi la tecnologia è importante, la tecnologia aiuta, probabilmente senza la complessità non è gestibile, però non sostituisce diciamo la capacità di gestire, di essere manager, di assumersi le responsabilità in campo tecnico e anche in campo diciamo di equità, come dice il titolo del nostro convegno. Grazie e quindi andiamo avanti adesso con tutti gli interventi più specifici.